Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, quest'oggi vi parlerò di un modo per rivoluzionare il vostro sistema audio-video in casa spendendo un po', è vero, ma vi posso assicurare che il risultato finale è eccezionale, paragonabile veramente al cinema e in questo periodo di pandemia, dove è molto difficile andare in un cinema e poter godere della definizione piuttosto che dell'atmosfera derivante dallo stesso, potrebbe essere una valida e buona alternativa considerando che il costo comunque è sì alto, ma non vi credete quanto di più rispetto a una normale televisione di ampio polliciaggio scopriamolo insieme, sì, ma subito dopo la nostra sigla il dispositivo che andremo a vedere quest'oggi si chiama Anker Nebula Cosmos o per i più Nebula Cosmos, Anker molte volte non si mostra quando si parla di proiettori il brand o sub-brand si chiama per l'appunto Nebula è uno dei migliori proiettori mai costruiti probabilmente nella storia nello specifico esistono due varianti la variante Full HD e la variante 4K che è quella che abbiamo noi testato con un prezzo, devo dire, decisamente diverso le due varianti differiscono solo per la risoluzione risoluzione che, devo dire la verità, si vede ma nelle giuste condizioni vale a dire, bisogna testarlo in un ambiente appositamente quasi studio creato non è difficile, anzi, tutt'altro, ci sono una serie di impostazioni semplicissime che potrete andare a vedere in completa autonomia senza l'aiuto di tecnici, periti, informatici e quant'altro è tutto molto semplice però ci vuole molto tempo per poter creare una base ad hoc a differenza di altri proiettori di Nebula, nello specifico non sono così tanto immediati prendi il Nebula Anchor Capsule 1 o 2 lo prendi, lo metti su un treppiede e ti godi il film con una qualità sicuramente più bassa questo è un vero e proprio proiettore nel senso della parola questo ve lo fa capire anche perché non c'è la batteria integrata quindi non è portable, non è così immediata l'installazione una volta installato però sarà tutto ancora più immediato rispetto a stare a montare e smontare ogni volta il vostro capsule, capsule max, solar e quant'altro quindi sostanzialmente è un vero proiettore fisso con un peso importante, sono circa 3 kg con la necessità di avere un'alimentazione sempre adeguata è una base d'appoggio fissa però ripeto, una volta installato avrete un vero e proprio cinema all'interno della vostra casa veniamo al prezzo, prima di andare oltre si parla di 699 euro e 99 centesimi per la versione full hd e 1399 euro virgola 99 centesimi per la versione 4k sì è vero è parecchio però vi posso assicurare che la carne al fuoco è altrettanta e onestamente se avete veramente voglia di fare un impianto di questo tipo non mi sembra nemmeno una cifra assurda perché stiamo parlando comunque di un impianto di proiezione a 4k con hdr 10 con una qualità costruttiva eccellente con android tv 9.0 che può arrivare fino a 150 pollici senza necessità di un impianto home theater perché sono integrato e 4 speaker da 10 watt all'interno è un impianto tutt'uno, molto semplice da installare a cui l'unico costo che dovrete aggiungere io vi consiglio di non risparmiare da quel punto di vista se no non vale la pena acquistare un impianto di questo tipo è un telo sostanzialmente o comunque un qualcosa che permetta di proiettare in maniera perfetta questa risoluzione vi dico la verità un telo non è sempre strettamente necessario se voi avete una parete bianca a me purtroppo in casa non ce ne sono di quelle dimensioni ma se voi avete una parete bianca vi posso assicurare che se naturalmente è ben pittata e tutto la risoluzione 4k la raggiungete in maniera super semplice quindi in quel caso non avrete bisogno del telo se non avete come me una parete bianca vi consiglio di optare per un telo di quelli buoni dai 100 euro in su ne potete trovare tanti su amazon magari vi lascio il link in descrizione ma veniamo al sodo parlerò velocemente delle specifiche tecniche perché poi più avanti vedremo più nello specifico come si comporta il software di questo dispositivo come vi dicevo quello che abbiamo testato 4k HDR 10 immagine regolabile fino a 150 pollici ma al tempo stesso può essere anche ridotta noi l'abbiamo utilizzato su un telo di 70 pollici con ottimi risultati l'audio è un Dolby Digital Plus 360 gradi è un 3D audio e come vi dicevo ha 4 casse da 10 watt si sente veramente da dio si sente veramente molto molto bene con dei bassi profondissimi credo di non aver provato nulla di simile in ambito audio ludico certo se lo paragoniamo a un GVC o piuttosto a un Bose di altissima qualità non regge il colpo però rispetto agli speaker bluetooth utilizzati con i vari capsule o comunque gli altri dispositivi di proiezione mobile che ho testato finora vi posso assicurare che la differenza c'è e si sente ha Android TV 9.0 con una piccola pecca che vedremo insieme su Netflix pecca comunque immediatamente bypassabile ha un autofocus eccezionale automatico a differenza del capsule 1 ma molto simile a quello del capsule 2 anche se più veloce ha Chromecast quindi di conseguenza la possibilità di effettuare mirroring direttamente dal nostro dispositivo smartphone tramite Google Home direttamente sul nostro proiettore il che è molto veramente molto molto utile perché ad esempio se vogliamo far vedere le foto del filmino quello piuttosto che quell'altro a stare ogni volta andare a impostare o collegare il PC è un po' rognoso facendo in questa maniera collegando il PC in Chromecast piuttosto che lo smartphone bello, facile e veloce parte il video parte l'audio è tutto immediato altra cosa importante ha una correzione automatica della proiezione di circa 40 gradi quindi di conseguenza anche se non è strettamente in orizzontale rispetto al piano di ripresa comunque la proiezione è eccellente anche spostandola di un 40 gradi non di più naturalmente ed è il tutto automatizzato quindi la correzione trapezoidale è tutta automatica è veramente eccellente sia quella orizzontale che quella verticale il design poi inoltre è veramente premium come vi dicevo è un po' pesante quindi non può essere io l'ho appoggiato su un manfrotto dal costo di circa 150-160 euro quindi uno dei migliori manfrotti almeno per un utilizzo basico e vi posso dire che lo reggeva a stento quindi non è come vi dicevo un qualcosa da semplicemente appoggiare è un qualcosa da avere lì fermo e immobile su un piano un ripiano in maniera perfettamente armoniosa insomma però la qualità il design è bellissimo è rotondo è a ovale nello specifico ha una qualità costruttiva eccellente invidiabile con un frame in alluminio c'è una chicca particolare sul sopra nello specifico e c'è un display praticamente AMOLED o comunque se non è AMOLED perché su questo non mi sono informato benissimo è completamente nero quindi vuol dire che sono stati attivati semplicemente i pixel là dove ci sono per l'appunto i LED delle stelle e questo display praticamente permette di creare un cielo stellato un qualcosa di comunque molto molto bello all'occhio che di sera sicuramente se non è posto a un ripiano superiore rispetto a dove stiamo vedendo un ripiano più basso può creare agevolare nella bellezza visiva comunque dalle impostazioni dell'app è possibile andare semplicemente a eliminarlo se non lo si vuole aggiungerci il logo o lasciare solo il cielo stellato bene non c'è altro da dire se non che per l'appunto vi sono più ingressi in ingresso per l'alimentazione due ingressi HDMI due ingressi USB e infine c'è un ingresso ottico per il Blu-ray che altro dire qualità veramente eccellente c'è veramente poco altro da dire se non che se state cercando un impianto perfetto per la riproduzione video stile cinema a casa vostra questo è quello che fa per voi io spero che questo video vi sia stato utile alla prossima e un saluto a tutti da Gianluca ciao ciao